Ciao a tutti, ben ritrovati per questa nuova puntata di La Conoscenza Agnostica. Io sono Irene Del Berme, per chi ancora non mi conosce, e insieme a me c'è il ricercatore, scrittore, caro amico Pietro Foccarete. Buonasera a tutti. Autore del libro La Bibbia Agnostica, Codice 1, Genesi, e anche, adesso è appena uscito, il secondo libro, è sempre La Bibbia Agnostica, Codice 2, l'era del leone drago. Stasera di cosa vogliamo parlare? Ma stasera penso che sia una puntata che i nostri ascoltatori la troveranno abbastanza interessante, dato che parleremo, finalmente risponderemo alla domanda delle domande, perché siamo qui, qual è il nostro scopo? Ok, penso che sia un qualcosa che invoglia tutti quanti un po' ad ascoltare, tutti quelli che sono alla ricerca di qualche risposta, anche se io sono convinta che sempre più si stia schiarendo, molte più persone si fanno questa domanda e che gli si aprono, diciamo, delle strade per arrivare a comprendere. Quindi partiamo con? Ma per capire il perché siamo qui, io inviterò te a leggere L'inno della perla, che è un testo che si trova all'interno dei testi gnostici, dove praticamente viene chiarito il motivo per la quale noi siamo su questa terra. Qual è il nostro scopo? Prima di iniziare però a leggere L'inno della perla, i nostri ascoltatori sarebbero anche interessati a sentire il tuo messaggio. Ok, allora, anche oggi ho chiesto qual è il messaggio che posso portare qui in trasmissione e il messaggio appunto è stato questo. La consapevolezza dello spirito passa attraverso i passi tracciati concordati. Le fatiche che portiamo guardano attraverso il velo dell'illusione. Sono tessuti che stringono la luce che ognuno contiene e anche la libertà. La luce è libera, incontenibile, scardina limiti, regole, schemi. Riemerge dal profondo, dalle trame ordite per negare la sua presenza. Ma come il sole che sorge, sorge nuova vita, vita vera, d'amore e gioia. Questo è tempo di gioia, di guarigione dell'anima e dello spirito. Come l'uovo che si apre dall'interno, così emerge da te stesso la volontà di essere, ciò che contieni nella verità di luce, nella verità del padre, nell'accompagnamento e nella protezione. Tutto fa parte dei tempi divini, del disegno creato per l'equilibrio tra i mondi. Schiere celeste aleggiano come soffi divini intorno ad ogni essere di luce e respingono entità oscure per far sì che tutto si compia. Così è. Bello. Vedo anche molto scientifico come messaggio. Molto bello. Sì. Devo dire che per questi incontri settimanali che stiamo facendo arrivano dei messaggi che secondo me appunto sono, sono tecnici. Cioè mi danno, mi danno delle risposte, dei messaggi tecnici. Mentre altre volte quando mi capita appunto di fare, ricevere dei messaggi per altre, per altre persone, arrivano messaggi anche di altro, di altro tipo. Io poi ovviamente quando ricevo il messaggio non so mai cosa, ovviamente non so mai cosa arriva, non so chi arriva, come avevo già detto in un altro incontro, però arrivano sempre, specialmente se si tratta, se arriva qualche parente piuttosto che qualche maestro che deve dare un messaggio su come, come la persona deve in qualche modo muoversi o ricevere un chiarimento su qualcosa o come viene guidata, sono sempre parole di un amore, di un amore diverso. Ecco, quindi non sono così tecniche. Infatti l'altra volta parlavano proprio di movimenti, cieli concentrici, adesso non mi ricordo neanche più. Evidentemente era Einstein che ti dava i messaggi. Non lo so, perché utilizzano termini che non utilizzerei di sicuro io. Vabbè, vedi, si impara sempre anche qualcosa, anche canalizzando certi messaggi. Ma sicuramente sì, quindi non so che entità mi dà il messaggio, sicuramente sono entità molto alte, proprio perché ci danno appunto questo messaggio, dicendo che siamo anche protetti. Quindi chiunque, diciamo, sta andando alla ricerca della luce, fermo restando che anche l'ultimo, uno degli ultimi messaggi diceva di stare attenti da ciò che è, che alle volte non è e tante volte quello che non sembra in realtà è. Ecco, direi che... Anche perché giocano molto con la menzogna e tante volte ti fanno credere ciò che è giusto quando invece non lo è. Sì, sì, diciamo che... Però la coerenza del cuore, di quello che contieni, traspare sempre. Quindi il disagio non è luce. È un messaggio proprio chiaro di quello che sta dicendo. C'è sempre un messaggio di Cristo che, lo prendo sempre come esempio, per capire se una cosa è buona o meno, Gesù disse, in base ai suoi frutti, sapete conoscere l'albero, se è buono o meno. Sì. Quindi... Però ecco, io ripeto che secondo me l'albero va anche potato bene per dare dei frutti migliori. Certo, certo. Curato e tirato su in un certo modo. Ma siamo noi che dobbiamo potare certi rami che non vanno. Assolutamente, assolutamente sì. Però adesso io sono curiosa di sapere la risposta alla domanda delle domande. Allora, bene. Io direi di leggere l'ino della perla che si trova negli atti apocrifi dell'Apostolo Tommaso. Quindi i Vangeli apocrifi. Bravissima. Così analizziamo e riusciamo a capire qual è il nostro scopo nella vita. Prima di leggere però facciamo un riassunto. Sì. Gli è stato concesso di raggiungere il pleroma. Facciamo un passo indietro perché magari qualcuno si collega per la prima volta oggi e quindi la terra con l'anima, la piste e Sofia è già un passaggio, un secondo passaggio. Sì, hai ragione. Io do per scontato che abbiano visto le puntate precedenti. Visto, sentito, ascoltato. Sì, sì, visto, sentito. Insomma, dipende se vanno su YouTube o ascoltano la radio. Allora, la piste e Sofia si trovava nel pleroma, che possiamo, diciamo così, identificarlo con il paradiso. Da questo mare primordiale è stata portata via da Arimani, Satana, e materializzata nell'oceano, nell'acqua che si trova sulla terra. Allora, facendo il riassunto dei riassunti, l'acqua contiene l'anima, la luce invece è lo spirito, e l'anima della terra, quindi la piste e Sofia, vuole ritornare nel pleroma. È stato concesso di ritornare nel pleroma solo dopo che ha sistemato il caos che ha combinato nel mondo materiale. Per aiutarla, ecco che ci siamo noi. In che senso? Noi, il nostro spirito è fatto prigioniero dalla materia. Quindi dal corpo fisico. Dal corpo fisico. Il nostro scopo è quello di portare ognuno di noi una goccia di piste e Sofia nel pleroma. Per portare la goccia di piste e Sofia nel pleroma, naturalmente, dobbiamo fare anche noi un cammino. Perché? Dobbiamo purificare l'acqua che è in noi. Noi siamo fatti all'80% di acqua, forse me l'avete sentito dire anche parecchie volte, ma è meglio che questo concetto entri in testa. Purificando l'acqua, quest'acqua quando noi moriamo, la nostra essenza viene registrata nei fotoni, quindi nello spirito, e se la nostra luce è abbastanza brillante, entriamo nel pleroma portando con noi l'essenza della piste e Sofia. Questo è un po' il riassunto e poi analizzeremo ora insieme l'inno della perla. Quindi quando ti senti pronta, cari Irene, puoi partire. Inforco gli occhiali perché a una certa età non vedo più. Allora, quando ero bambino e abitavo nel regno della casa di mio padre e mi dilettavo della ricchezza e dello splendore di coloro che mi avevano allevato, i miei genitori mi mandarono dall'Oriente, nostra patria, con le provviste per il viaggio. Allora, analizziamo questo primo pezzetto. Qua è lo spirito di ognuno di noi che parla. Quando ero bambino e abitavo nel regno, quindi nel pleroma, di mio padre e mi dilettevo della ricchezza e dello splendore di coloro che mi avevano allevato. Quindi qua abbiamo l'immagine del pleroma di questa grande famiglia. Il paradiso. Sì, il paradiso, chiamiamolo paradiso, dove c'è questa grandissima famiglia, c'è armonia, c'è amore, dove i genitori, quindi spirito e anima, la parte maschile, lo spirito, l'invisibile spirito vergine e l'anima che sarebbe barbelo, il mare primordiale. Dall'Oriente, l'Oriente simbolicamente dove sorge il sole, quindi la luce, gli viene consegnato allo spirito delle provviste. Queste provviste cosa sono? Sarebbero l'epinoia, la coscienza, la percezione, la memoria, la comprensione, l'amore, l'idea, la pace e la saggezza, che sono le virtù che l'invisibile spirito vergine ha dato a barbelo. Quindi noi praticamente queste virtù ce le portiamo dietro dal pleroma fino a quando ci incarniamo qua sulla terra. Puoi continuare. Ok, quindi noi comunque conteniamo, diciamo, tutte queste virtù e che alle volte ce lo dimentichiamo. Ce lo dimentichiamo o sono gli arconti che fanno in modo che noi non attingiamo da queste virtù. Ok. Delle ricchezze della nostra casa fecero un carico per me, esso era grande eppure leggero in modo che potessi portarlo da solo. Mi tolsero il vestito di gloria che nel loro amore avevano fatto per me e il manto di porpora che era stato tessuto in modo che si adattasse perfettamente alla mia persona e fecero un patto con me e lo scrissero nel mio cuore perché non lo potessi scordare. Allora, scusami se ti interrompo perché sennò diventa troppo lungo e la gente poi non riesce a capire. Questo vestito di gloria che nel loro amore avevano fatto per me sarebbe praticamente l'anima. Noi, venendo dal pleroma, quindi la pienezza di Dio, ovvero spirito e anima, noi veniamo qua solo in spirito perché l'anima che abbiamo qua su questa terra è l'anima arcontica che sarebbero dei frammenti, gli arconti vengono generati da Pisti Sofia. Quindi noi veniamo qua in spirito, la nostra anima, il nostro manto, il nostro fratello perché poi verrà anche chiamato fratello, quindi la nostra anima rimane nel pleroma e noi veniamo qua solo in spirito dove il nostro spirito si unirà all'anima materiale, l'anima terrestre, nell'anima arcontica che si trova in questo mondo materiale. Prego. Quando andrai in Egitto e riporterai l'unica perla che giace in mezzo al mare accerchiata dal serpente sibilante, indosserai di nuovo il tuo vestito di gloria e il manto sopra di esso e con tuo fratello, prossima a noi indignità, si erede nel nostro regno. Ecco, qui abbiamo già un'idea a livello simbolico di quello che ci vuole dire l'inno della perla. Allora, quando andrai in Egitto, simbolicamente l'Egitto a quei tempi lì era il massimo della civiltà e anche del mondo materiale e quando riporterai l'unica perla, ovvero quella goccia di mare di Pisti Sofia che giace in mezzo al mare, dice proprio così il testo, accerchiata dal serpente sibilante. Il serpente sibilante sarebbe, qua lo indica come Yaldabaotto, ovvero Lucifero, ma questo serpente sibilante, questa perla, sarebbe praticamente l'acqua che abbiamo dentro noi e dove c'è questo serpente sibilante, quindi questo arconte che abbiamo dentro di noi, che cerca di proteggere questa perla per fare in modo che noi non ce ne appropriamo. quindi che sostanzialmente che lo spirito non riesca a penetrare attraverso la parte emotiva, bravissima, quindi l'acqua rappresenta le emozioni e di conseguenza se abbiamo emozioni, chiamiamole negative per accorciare, per non nominarle tutte, in questo caso è difficile arrivare, accogliere questa perla che in realtà è stata, diciamo, nascosta da questa parte emotiva, giusto? Giustissimo. Lasciai l'Oriente e mi avviai alla discesa accompagnato da due messi reali, poiché il cammino era pericoloso e difficile ed io ero troppo giovane per un tale viaggio, oltrepassai i confini di Maisam, punto d'incontro dei mercanti dell'Oriente, giunse la terra di Babel ed entrai nelle mura di Sarburg. Ok, allora, qua inizia la discesa dello spirito, lasciai l'Oriente, quindi dove sorge il luogo della luce e mi avviai alla discesa, quindi qua nel mondo materiale, accompagnato da due messi reali che sarebbero i due spiriti guida che ognuno di noi ha, almeno due, da uno a due, poiché il cammino era pericoloso e difficile ed io ero troppo giovane per un tale viaggio. Noi tutti siamo considerati a livello spirituale dei bambini, anche se raggiungiamo la veneranda età degli 80 e 90 anni, siamo comunque considerati come spiriti giovani, anche se immortali e chissà quante altre vite abbiamo vissuto, prima di riuscire a prendere questa perla e portarla di nuovo nel pleroma. Chissà quanti tentativi abbiamo fatto nelle vite precedenti. E comunque, una volta che lo spirito si trova qua, oltrepassa i confini di Maishan. Maishan è un luogo, una provincia dell'impero sasanide, considerata una delle più importanti e floride della storia della Persia, e lo zoroastrismo era la religione praticante. La terra di Babel e Sarburg, invece, simboleggiano il mondo materiale. Quindi abbiamo tre tipi di luoghi. Maishan, dove praticamente abbiamo la conoscenza spirituale, dove noi veniamo qua, ci viene privata della conoscenza, e però noi la conoscenza la possiamo riavere attraverso lo studio. Dobbiamo muoverci, dobbiamo studiare, perché dei frammenti di gnosticismo, qui comunque sul mondo, li troviamo sempre, anche se nel corso dei secoli hanno spezzettato, diciamo così anche... Sì, a seconda poi delle religioni, ognuno ha il suo pezzo più o meno simile, ma non c'è tutto. Benissimo. Noi abbiamo, quindi, abbiamo il modo di ricordarci chi siamo e da dove veniamo attraverso questi pezzi gnostici, questi testi che ancora circolano. E in più abbiamo Babel e Sarburg che simboleggiano il mondo materiale. Prego. Scusami, mi viene da dire che molte persone si ricordano, specialmente i bambini, si ricordano magari la loro discesa. Anche tanti testi, tante persone, insomma, che hanno canali medianici, o che parlano appunto con l'oltre, possono testimoniare, insomma, che noi ci scegliamo prima il nostro percorso. Quindi è un ricordare, cioè un scegliere la discesa. Quindi, ok, ridiscendo, perché devo portare a termine delle cose. Infatti, tant'è vero che qua, l'inno della perla, non è che siamo stati buttati così nella materia. No, no, viene scelto e concordato. Concordato. Questo è quello che ci dice. Scesi in Egitto e i miei compagni mi lasciarono, gli spiriti guida, mi diressi deciso al serpente e mi stabilì vicino alla sua dimora, in attesa che si riposasse e dormisse per potergli prendere la perla. Poiché ero solo e me ne stavo in disparte, forestiero per gli abitanti dell'albergo, vidi la uno della mia razza, un giovane leggiadro e bello, figlio di re di coloro che sono unti. Egli veni e si unì a me, ed io l'accorsi familiarmente e con fiducia, raccontandogli la mia missione. Prego. Io l'avverti di guardarsi dagli egiziani e di evitare il contatto con gli impuri. Tuttavia mi vestì come loro, con i loro abiti, per nascondermi tra loro e per evitare che non risvegliassero il serpente contro di me, che ero venuto per prendere la perla. Ecco, qui come possiamo benissimo capire, in base anche a quello che abbiamo detto nelle puntate precedenti per chi li ascoltate, facciamo un piccolo riassunto. Noi veniamo qui, da bambini abbiamo la nostra ancora coscienza, come hai detto tu, che ci lega al pleroma, però poi nel corso della nostra vita, crescendo, avviene quello che continuando adesso a leggere, iniziamo a capire. Ok. Ma in qualche modo si accorsero di me, che non ero uno di loro e cercarono di rendersi graditi a me. Mi diedero nella loro astuzia una bevanda e mi dettero da mangiare della loro carne. E io dimenticai che ero figlio di re e servì in loro re. Dimenticai la perla per la quale i miei genitori mi avevano mandato. Per la pesantezza del loro cibo caddi in un sonno profondo. I miei genitori avevano notato tutto quello che mi cadeva ed erano afflitti per me. Benissimo, qui adesso iniziamo a capire anche quello che ci dicono i testi gnostici, che noi beviamo dell'acqua della dimenticanza, non ci ricordiamo più da dove veniamo. Tant'è che qua parlava pesantezza del cibo, diciamo che tante persone praticano comunque un certo tipo di alimentazione dove magari evitano la carne, mangiano di meno, comunque alcuni cibi e in questo modo si ripuliscono e riescono ad essere più connessi, a ricevere più messaggi, hanno i canali più puliti per poter essere riconnessi. fu proclamata una convocazione del regno e che tutti dovevano presentarsi. Formarono un piano perché io non fossi lasciato in Egitto e mi scrissero una lettera firmata col nome di ciascuno dei grandi. Da tuo padre, il re del re, e da tua madre, signora dell'Oriente, da tuo fratello, nostro prossimo di rango, e a te, nostro figlio in Egitto, salute. Svegliati e sorgi dal tuo sonno e intendi le parole della nostra lettera. Ricordati che sei figlio di re. Guarda chi è servito in schiavitù. Poni mente alla perla per la quale sei partito. Ricordati il vestito di gloria. Richiama il manto splendido per indossarli e adornarti con essi. Il tuo nome possa essere letto nel libro degli eroi e tu divenga con tuo fratello, nostro delegato, erede del nostro regno. Questo è un passaggio che a me piace moltissimo. Come tutti noi siamo considerati nel Pai Roma, ovvero degli eroi che abbiamo questa missione. è una volta che, anche se ci troviamo persi nel mondo materiale, in qualche modo il regno spirituale, l'invisibile spirito vergine, il re dei re, la madre, ovvero Barbelo, il mare primordiale, fratello, quindi la nostra anima gemella, la cosiddetta anima gemella, sarebbe l'anima gemella del nostro spirito. Noi abbiamo lo spirito che luce e la nostra anima gemella sarebbe l'anima che abbiamo lasciato nel Pleroma che quando ritorneremo lì ci uniremo di nuovo a lei e ci vestiremo del suo manto. Quindi noi, anche se ci troviamo tante volte persi qua sulla terra, abbiamo un aiuto del mondo spirituale. Poi naturalmente dipende da noi anche cogliere i messaggi, cogliere l'aiuto, dipende anche da quanto addormentati siamo. Poi ci sono molti fattori, infatti poi non tutti riescono a compiere questa missione. Sicuramente, la fine del messaggio che è arrivato a me oggi parlava appunto di schiere celesti che comunque sono a proteggere la luce da forze oscure, quindi da quelli che ti mettono il vestito che non è quello del re. Come un messaggero era la lettera che il re aveva sigillato con la mano destra contro i malvagi, figli di Babel e i demoni ribelli di Sarburg. Si levò in forma d'aquila, il re di tutti gli alati, e volò finché discesa vicino a me e divenne interamente parola. Al suono della sua voce mi svegliai e mi destai dal sonno. Presi la lettera, la baciai, rupi il sigillo e lessi. Quindi, conformi a quanto era scritto nel mio cuore, si potevano leggere le parole della mia lettera. Beh, penso che qua non ci sia bisogno di spiegazioni, sia molto chiaro. Ok, quindi si è ricordato, mi ricordai che ero figlio di re e che la mia anima nata libera aspirava ai suoi simili. Ecco, qui l'anima, vedi, parla, inizia a menzionare l'anima nata libera, l'anima che risiede nel barbelo, l'acqua incontaminata che si trova nel pleroma, quell'acqua pura. Mi ricordai della perla per la quale ero stato mandato in Egitto e cominciai ad incantare il terribile serpente sibilante. Lo indussi al sonno invocando su di lui il nome di mio padre, il nome del nostro prossimo in rango e quello di mia madre, la regina dell'Oriente. Presi la perla e mi volsi per tornare a casa da mio padre. Mi spogliai del loro vestito sudicio e impuro e lo abbandonai nella loro terra. Diresti il mio cammino verso il luogo di luce nella nostra patria, l'Oriente. Ecco, qui ci spiega che una volta che abbiamo coscienza e iniziamo a capire qual è la nostra missione sulla terra, svolgiamo il nostro compito che è quello di purificare l'acqua che è in noi. Come purificarla? Attraverso l'amore, attraverso la comprensione, attraverso il perdono, attraverso tante virtù che il nostro spirito si è portato dal pleroma. E naturalmente questo nel corso della vita dobbiamo anche svilupparli perché vengono assopiti nel corso dei problemi che possiamo trovare nel corso della vita, quindi iniziare a svilupparli, iniziare a… Diciamo che forse i problemi sono quelli che dovrebbero farti porre delle domande e dirti perché succede questo e andare nuovamente alla ricerca della parte spirito. Sì, questo è un argomento un po' delicato, nel senso che io sono convinto che le sofferenze servono a sviluppare il nostro lato spirituale e a risvegliare in noi queste virtù. Ci sono persone che invece non sono d'accordo e poi ognuno naturalmente ha una sua visione del male che ci viene, il perché ci viene, se il karma, se invece serve per risvegliare il nostro spirito, se invece perché abbiamo fatto qualcosa noi precedentemente di sbagliato o perché siamo vittime di persone che ci hanno fatto del male. Qua può essere un insieme di cose, avendo a che fare anche con gli arconti interni ed esterni. Certo, l'arconte interno che ti fa vedere se sei vittima o se sei... È bravissima, magari ci tocca l'orgoglio, magari ci tocca l'ego, causato dall'arconte che si trova all'interno della persona con la quale interagiamo e così via. Però, secondo me, determinate sofferenze ci portano a risvegliare il nostro spirito. Io concordo con te perché poi da lì solitamente si inizia un percorso per cui magari uno si chiede perché è successo questo, qual è il senso, ti fai la domanda qual è il senso della vita, cioè la domanda delle domande. Ma io infatti rimango anche molto colpito da quelle persone che subiscono un incidente grave da rimanere anche paralizzati dalla vita in giù e ad un tratto queste persone secondo me vivono poi, riescono a trovare una forza a reagire, ad essere anche molto spirituali ma a vivere la vita pienamente rispetto a uno, diciamo così, sano, nel senso che non ha problemi motori. Spesso e volentieri dobbiamo imparare da queste persone vittime di certi handicap che purtroppo hanno subito nel corso della vita. Sì, diciamo che queste persone qua in realtà sono dei maestri incarnati perché comunque tutto quello che avviene ha un senso non soltanto per la persona che magari deve fare dei passaggi evolutivi personali però muove tutto quello che sta intorno quindi appunto magari diventano persone che diventano esempio per gli altri e quindi vengono poi emulati o comunque si arriva a un livello di comprensione diverso quindi anche c'è chi deve imparare l'accudimento, chi deve imparare la compassione, chi deve imparare alcune di quelle virtù che hai elencato prima che invece magari un attimo prima non c'erano. Tra l'altro molti messaggi che stanno arrivando adesso sono proprio sul ricorda chi sei, esprimi chi sei veramente, cosa sei venuto a fare. Anche perché i tempi sono questi che ci portano a svegliarci, poi c'è chi si sveglia e chi no ma quello è un altro paio di maniche. Trovai la lettera. Trovai la lettera che mi aveva ridestato davanti a me sul mio cammino e come mi aveva svegliato con la sua voce ora mi guidava con la sua luce che brillava dinanzi a me, con la voce incoraggiava il mio timore e col suo amore mi traeva e andai avanti, i miei genitori mandarono incontro a me i loro tesorieri che mi diedero il vestito di gloria e il manto che avevo tolto prima di partire. Avevo dimenticato il suo splendore avendolo lasciato da bambino in casa di mio padre. Qui quando la nostra vita terrena finisce e quindi il nostro spirito si libera, quando iniziamo a raggiungere il pleroma avremo queste forze spirituali che verranno incontro a noi, questi nostri genitori spirituali che ci riporteranno il nostro manto, ovvero la nostra anima, la nostra acqua pura dove noi ricorderemo tutto. Infatti qua dice avevo dimenticato il suo splendore avendolo lasciato da bambino in casa di mio padre, quindi qui abbiamo anche una certa maturità dove prima scendi sulla terra, è uno spirito giovane da bambino e poi quando praticamente lasceremo questa terra avremo lo spirito più maturo, più adulto. Mentre osservavo il vestito mi sembrò che diventasse improvvisamente uno specchio immagine di me stesso. Mi vidi tutto intero in esso e in esso tutto vidi in me, cosicché eravamo due separati eppure ancora uno per l'uguaglianza della forma e l'immagine del re dei re era raffigurata dappertutto su di esso e vidi anche vibrare dappertutto su di esso i movimenti dell'agnosi. Vidi che stava per parlare e percepì il suono delle canzoni che mormoravano lungo la discesa. Sono io che ho agito nelle azioni di colui per il quale sono stato allevato nella casa di mio padre ed ho sentito in me stesso che la mia statura cresceva in corrispondenza delle sue fatiche e con i suoi movimenti regali il manto si offerse tutto a me e dalle mani di quelli che lo portavano si affrettò perché potessi prenderlo. Beh qua è molto molto bello quindi c'è un passaggio importante quando lo spirito che osserva il vestito e che vede che si rispecchia. Quante volte noi possiamo benissimo rispecchiarci nell'acqua. Quindi qua abbiamo proprio lo specchio immagine dove risplende il tuo spirito attraverso la tua anima che hai lasciato a Barbelo e quindi questa maturità che tu hai avuto nel mondo materiale dove ti rivedi e inizi ad unirti. Anima e spirito prima eravamo due separati eppure ancora uno per l'uguaglianza della forma. E un altro passo importante è l'immagine del re del re quindi dell'invisibile spirito vergine della fonte dell'uno era raffigurata dappertutto su di esso quindi come l'invisibile spirito vergine si rispecchia in Barbelo e Barbelo il mare primordiale la nostra anima che viene da Barbelo quando si riunisce al nostro spirito ci riuniamo diventiamo tutt'uno con l'immagine dell'invisibile spirito vergine. Molto affascinante questo. E se siamo scintille divine gocce. Ma qui vedi come l'inno della perla ci spiega tutto il cammino la missione dal nostro spirito che parte da Barbelo che viene separato dall'anima che si incarna nella materia con un'anima corrotta degli arconti che quest'anima corrotta degli arconti serve deve essere purificata per riportarla poi a Barbelo in modo da aiutare la Pisti Sofia a ritornare nel pleroma. E cioè trovo veramente affascinante questo. Poi tra l'altro anche il fatto che dica e vidi anche vibrare dappertutto su di esso i movimenti dell'agnosi. Della conoscenza. La vibrazione, le frequenze vibrano e quindi diciamo tutto il nostro percorso è come riconoscere tutte le vibrazioni che ci sono state nel nostro percorso. Tanto è vero anche che le persone che hanno avuto esperienza di premorte tutti hanno detto che la loro conoscenza ad un tratto si è ingrandita, si è unita ad una conoscenza più grande, una conoscenza del tutto, dell'agnosi vuol dire conoscenza. Quindi anche qua nel lino della perla ci dice che tutti i movimenti dell'agnosi, della conoscenza alla fine ci riapproprieremo di queste vibrazioni. E poi un'altra cosa molto bello, sono io che ho agito negli azioni di colui per il quale sono stato allevato nella casa di mio padre. Quindi qua abbiamo il libero arbitrio, quindi io prendo la decisione di portare a termine la missione, oppure posso prendere la decisione di vivere nel materialismo, di lasciare stare, lasciare perdere questa missione e concentrarmi più sul mondo materiale. Però qua ci dice nel libro, nel lino della perla, che però invece sono stato io, quindi il merito è anche mio, sono stato io che ho agito negli azioni di colui per il quale sono stato allevato nella casa di mio padre. Ed ho sentito in me stesso che la mia statura cresceva in corrispondenza delle sue fatiche. Quindi man mano che il nostro spirito trova fatica nel mondo materiale, queste fatiche le dobbiamo prendere come segno di bravissima di espansione che ci permette anche di crescere. Anch'io ero mosso dall'amore a correre verso di esso per riceverlo e mi protesi verso di lui, lo presi e mi avvolsi nella bellezza dei suoi colori e gettai il manto regale intorno a tutta la mia persona. Così rivestito salì alla porta della salvezza e dell'adorazione, inchinai la testa e adorai lo splendore di mio padre che me lo aveva mandato, i cui comandi avevo adempiuto perché anche egli aveva mantenuto ciò che aveva promesso. Mi accolse gioiosamente ed ero con lui nel suo regno e tutti i suoi servitori lo lodarono con voce di organo, cantando che gli aveva promesso che avrei raggiunto la corte del re dei re e avendo portato la mia perla, sarei apparso insieme a lui. Beh, bello come finale no? Alla fine lo spirito che riesce a compiere la sua missione, quindi non è legato al ciclo più della rincarnazione, porta la perla, questa goccia d'acqua di Pristi Sofia nel pleroma, la sua anima gemella, quindi il suo manto se lo rimette addosso e viene lodato questo spirito ognuno di noi per aver portato a compimento la nostra missione e una cosa molto bella. Allora, inchinai la testa e adorai lo splendore di mio padre che me lo aveva mandato, i cui comandi avevo adempiuto perché anche egli aveva mantenuto ciò che aveva promesso. Nel senso che ciò che lui ha promesso, che una volta che ritorneremo lì lui ci accoglierà e mi accolse gioiosamente ed ero con lui nel suo regno e tutti i suoi servitori lo lodarono con voce di organo, cantando che egli aveva promesso che avrei raggiunto la corte dei re e avendo portato la mia perla sarei apparso insieme a lui. Quindi abbiamo anche un'immagine finale della nostra missione, penso che sia bella, no? Assolutamente, assolutamente sì. Mentre leggevamo questo inno della perla mi è venuta in mente un'immagine che ho visto in una, di una mia vita precedente dove io sono, mi sono vista la mia discesa nella terra per la prima volta e sono capitata in Egitto. Quindi mi faccio due domande sulla mia missione, la mia comprensione qua. Il ciclo della reincarnazione dobbiamo dividere... Diverse persone sono, ho sentito che sono arrivate lì, incarnate. Sì, 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 ma poi il ciclo della reincarnazione bisogna dividere in due parti, prima di Cristo e dopo Cristo. Prima di Cristo il ciclo della reincarnazione era dovuto dal fatto che lo spirito non si era evoluto. Con l'avvento di Cristo molti spiriti hanno scelto di reincarnarsi per portare a compimento la missione. Quindi più volte uno spirito si è incarnato e più volte avrà anche portato la perla nel pleroma. Quindi non è che abbiamo una sola missione. Tu puoi anche scegliere dopo aver magari la prima volta che sei stata qui, sei riuscito a portare la perla nel pleroma. Quindi in realtà puoi portare più perle. Puoi portare più perle e quindi hai un'evoluzione ancora di più spirituale. E poi qua è una mia opinione. Secondo me più perle porti e più il tuo riconoscimento ti porta ad avere anche a superare certi cieli del pleroma. Beh sicuramente è una scesa in base all'espansione della coscienza. Bravissimo, bravissimo. Per chi volesse l'ino della perla non è facile trovarlo. Comunque io lo riportato sul mio secondo libro, la Bibbia Gnostica, codice 2, l'era del Leone Drago, che potete trovarlo ovunque. Oppure anche se volete, io ho qualche copia a casa, magari ci potete contattare e ve la posso dare anche per chi è interessato, anche autografata insomma. Sì, ci possono contattare o sul gruppo iscriversi al gruppo Telegram Il Mondo Gnostico, oppure possono scrivere anche circolodilucechiocciolagmail.com che appunto avremo modo insomma di sentirci e poi darvi anche il libro. Poi prima di salutare i nostri amici, Edora ci aveva chiesto se volevamo fare una serata in presenza con gli ascoltatori. Esatto, abbiamo organizzato questa data in presenza anche per poterci scambiare delle domande. Io non mi ricordo il giorno però. Lunedì 18. Lunedì 18, ok. Lunedì 18 marzo. Alle ore 20 e 30. Alle ore 20 e 30, qui presso l'associazione Piper Club a Fontana Fredda. Però vi ridaremo tutte le informazioni, faremo la locandina e vi manderemo tutto. Per stasera io direi che possiamo salutare i nostri amici, ascoltatori. Niente, vi voglio ricordare che ci potete sentire attraverso la radio nei canali FM 88.8 e 93.8, nel resto del mondo sull'app Radio Piper. Ovviamente lunedì sera alle 20 e 30 e sul sito www.radiopiper.it e poi ci saranno i podcast che verranno caricati su YouTube. Certo, intanto grazie ancora a tutti e vi auguriamo una buona serata. Ciao. Ciao.